Tra i tanti fenomeni della violenza di genere, la mutilazione sessuale femminile è certo la più raccapricciante. E ad essa si associa purtroppo una diffusione preoccupante, frutto di tradizioni e culture che non possono e non devono trovare compromessi nella nostra società. L'unica possibilità per combattere questa pratica però che ha già colpito in Italia 40.000 donne, soprattutto bambine, migliaia anche nel Veneto, sta nel creare una consapevolezza al femminile. A tentare questa rivoluzione culturale sono le donne dei sindacati vicentini riuniti, CGL e Cisle Will, insieme per combattere una pratica mostruosa che deturpa e violenta il corpo delle donne nella sua femminilità più intima e che nulla a che vedere con il rispetto delle altre culture. In Italia si è cercato di dare una risposta a questo fenomeno con la legge numero 7 del 2006 che vieta l'infibulazione, ma l'aspetto repressivo purtroppo non basta a scardinare tale violenza. Un appello alle donne delle comunità straniere affinché siano loro le prime, insieme a noi se vorranno, a ribellarsi a queste pratiche che sono sempre degli shock psicologici, fisici, verso le donne che le subiscono. Si stima che siano 40.000 in Veneto. Questa violenza forte alle donne fanno subire nel tempo delle ripercussioni di salute gravi che poi devono essere comunque assistite e comunque curate negli ostri ospedali se sono qui da noi e se no altrove. Non dobbiamo dimenticare che queste pratiche danno degli effetti poi nel tempo proprio indescrivibili nel senso se noi pensiamo che queste pratiche spesso portano anche alla morte. Devono essere infatti in particolare le donne, seppur straniere in Italia, a ribellarsi. Da loro che deve partire l'emancipazione, una nuova alleanza sotto il segno del rispetto per se stesse e assicurano i sindacati nella provincia berica qualcosa si sta davvero muovendo anche grazie a questi incontri. Tutte le comunità cominciano ad avere al loro interno gruppi di donne che su questo tema come su altri stanno riflettendo, stanno facendo cultura, stanno facendo prevenzione. E' proprio a loro che noi ci rivolgiamo mettendo a disposizione se vorranno anche le nostre strutture.